Penso che questa squadra manca nel reparto difensivo dei giocatori importanti, oggi si sono stati di nuovo due errori collettivi e abbiamo pagato a caro prezzo, sia nel primo che nel secondo gol. Siamo partiti bene, abbiamo preso un palo, abbiamo avuto un'altra occasione con Coda, non siamo riusciti a sfruttare, poi abbiamo trovato il pari, poi c'è stato l'ennesimo errore collettivo che è dovuto alla mancanza di giocatori in quel reparto. Sceudone giocava esterno, cercava poi di dare equilibrio venendo in mezzo, il modulo era quello per far giocare Donnarumma e Coda insieme e per sfruttare il gabionetto che le cose migliori le fa da esterno e quando poi si accentra. Quindi ho valutato in settimana dietro le punte il gabionetto però non mi ha convinto e quindi ho fatto questa scelta qua con Sceudone che doveva dare l'equilibrio, proporsi, visto che poi un giocatore che ha gamba poteva sfruttare l'ampiezza. Anche nel primo tempo abbiamo crossato, poi non siamo riusciti a impattare la palla o a prenderla, sono stati bravi gli avversari, si sono difesi con ordine. Come sapevamo, una squadra concreta, una squadra che con le ripartenze, con questi giocatori veloci, ha sfruttato le due occasioni che sono capitate, noi invece non siamo riusciti nel primo tempo con un pale, come ho detto prima, con un'occasione di coda, a differenza è qui e poi ci sono, purtroppo paghiamo a caro prezzo, assenza importante, ripeto, in quel reparto dove però commettiamo degli errori collettivi che paghiamo a caro prezzo tutte le partite. Bisogna reagire, il calcio dà subito altre opportunità, questa è la Serie B, si può vincere e perde con chiunque, questa è stata la dimostrazione e quindi voglio gente che ha attributi, perché penso che siano fondamentali poi gli attributi, venire fuori in queste situazioni qua e sono incazzato, incazzato per la prestazione, mi aspettavo qualcosa in più, adesso dobbiamo reagire, dobbiamo agire come ho detto prima, ci vogliono gli uomini, adesso è il momento degli uomini e gente che ha gli attributi.